Ci sono otto bambini, quattro maschi e quattro femmine, tra i corpi recuperati dalla Guardia Costiera nel Mar Ionio, ad un centinaio di miglia dalla costa calabrese, vittime del naufragio di una barca a vela partita dalla Turchia. I corpi recuperati complessivamente oggi, ha riferito la prefettura di Reggio Calabria, sono 14. Oltre agli otto minori, ci sono due uomini e quattro donne, arrivati verso le 22 circa al porto di Roccella Ionica per procedere allo sbarco. Dall'inizio delle operazioni, riferisce alla prefettura, sono stati recuperati 20 corpi, 6 uomini, 6 donne e 8 minori. Gli undici superstiti portati a Roccella Ionica avevano parlato di una sessantina di dispersi.